Buonasera a tutti, benvenuti alla diretta di venerdì 17 aprile per il consueto riepilogo e l'aggiornamento sulla situazione dell'emergenza sanitaria nel comune di Novi di Modena. Questa sera partiamo da una bella notizia che abbiamo anche già pubblicato sulla nostra pagina Facebook ieri mattina a Corte Nova è stato organizzato un momento di festa per i primi dati confortanti della struttura. Sono stati festeggiati Silvana, Dinora e Bernardino che a seguito del doppio tampone negativo sono ufficialmente guariti dal Covid-19. Insieme a tutto lo staff della struttura ci siamo riuniti con le auto di servizio della polizia locale e dei carabinieri in un applauso fragoroso liberatorio. Un momento di festa che ci vuole suggerire che anche nella complessità dell'emergenza qualcosa di positivo accade. Grazie davvero a tutto lo staff di Corte Nova per il prezioso lavoro che sta svolgendo per la cura degli ospiti. Abbiamo ricevuto anche in questi giorni tanti complimenti e apprezzamenti per la consegna delle mascherine. Vorrei girare tutti questi complimenti ai nostri volontari di protezione civile che si sono veramente spesi con passione per questa attività e ricordo comunque che il numero delle mascherine messo a disposizione dalla regione non poteva essere diciamo particolarmente significativo per il nostro territorio ma in realtà è stato un modo per incontrare un po' tutte le famiglie e per testimoniare con fatti concreti che non siete soli in questo difficile momento e non lo sarete mai. Grazie anche a tutti i concittadini che hanno rifiutato la consegna perché già provvisti mettendo quindi il fogliettino che diceva che potevamo darle a chi ne aveva più bisogno. Anche questi piccoli gesti di solidarietà fanno davvero onore al lavoro di tutti. Ho chiesto quindi al gruppo comunale dei volontari di protezione civile un riepilogo finale diciamo della distribuzione delle mascherine e quindi 4.500 sono quelle consegnate dalla regione. Ne abbiamo distribuite 3.900 alle famiglie di nove, quindi a 3.900 famiglie, ne rimangono circa 600 per cui vi ricordo nuovamente che è possibile segnalare la mancata ricezione anche per conto eventualmente dei vicini di caso, di persone anziane che non sono tecnicamente attrezzati tramite il numero che è stato pubblicato sul sito e su facebook che appunto consente ai volontari di organizzare un secondo giro per la consegna. I volontari ci informano anche che il gruppo comunale di protezione civile riprenderà da lunedì la consegna dei dispositivi messi a disposizione della scuola per seguire le lezioni di didattica a distanza quindi dei tablet o dei computer portatili che possono consentire e possono servire agli studenti per continuare la consueta attività e ringrazio anche in questo caso sia i volontari di protezione civile che il nostro corpo docente che sta veramente facendo un lavoro notevole per adattare la propria attività formativa, la propria didattica appunto a questo nuovo modo di insegnare. Sempre tornando all'attività dei volontari, questa volta vi parlo dei volontari che sono gli assistenti civici domani sia al mattino che al pomeriggio saranno di nuovo in servizio davanti alle cop e saranno appunto in servizio per garantire il rispetto delle corrette norme insomma di distanziamento sociale ma soprattutto per distribuire eventualmente qualche mascherina a qualcuno che si presentasse senza all'ingresso del negozio quindi per fare in modo che tutti possiamo fare la spesa nella massima sicurezza. Sempre parlando di spesa, per i nostri buoni spesa quindi per la solidarietà alimentare messa a disposizione dalla protezione civile non ci sono al momento ulteriori novità rispetto alla diretta dettagliata che avevo fatto mercoledì ma appena saranno in consegna lo comunicheremo immediatamente. Volevo però ricordarvi che è possibile fare donazioni quindi tramite il conto corrente del comune di Novi che è indicato nella home page del nostro sito è possibile fare donazioni proprio per queste attività di solidarietà alimentare che ricordo che sono fatte anche in collaborazione con l'associazione Quinta Zona che è l'associazione che tramite le parrocchie e le caritas parrocchiali appunto ci aiuta a distribuire i beni di prima necessità direttamente con le sportine alimentari alle famiglie che ne hanno bisogno. Sempre per i bisogni due servizi molto importanti ve li ricordo vi invito ad utilizzarli nel caso proprio che ci sia questa necessità sono i numeri dell'ASL che riguardano il sostegno psicologico appunto per superare questi momenti così particolari un po' difficili che ci mettono in difficoltà a volte e anche il numero specifico del centro antiviolenza. Ci sono appunto tutti i riferimenti sul nostro sito. Una notizia positiva anche per la frazione di Sant'Antonio e Mercadello la prossima settimana riaprirà anche l'ufficio postale di Sant'Antonio. Per il momento Poste Italiane ci comunica che il giorno d'apertura sarà il mercoledì con l'orario al mattino dalle 8.20 alle 13.45 quindi a partire da mercoledì 22 la riapertura dell'ufficio postale anche a Sant'Antonio quindi complessivamente tornano di nuovo aperti tutti gli uffici postali del nostro comune. La situazione dei contagi. Questa sera mi allungherò farò un ragionamento anche sul discorso appunto dei contagi. Abbiamo complessivamente 42 casi più 3 rispetto a ieri di cui 37 sono positivi ma a domicilio e 5 sono ricoverati. Abbiamo inoltre 26 persone come contatti stretti in isolamento domiciliare e a me piace sempre anche dare questo dato 10 persone completamente guarite più 2 rispetto all'ultimo all'ultima statistica che vi avevo indicato. Vi dicevo vorrei fare una riflessione perché l'evoluzione epidemiologica sul nostro territorio pur portando alla luce un leggero aumento del numero dei contagiati suggerisce che continuano ad esserci contagi continuano ad esserci leggeri aumenti insomma sul numero dei contagiati quindi dobbiamo tenere alta la guardia ancora rispetto alle misure di distanziamento sociale. La riflessione che volevo fare è questa quando è iniziato questo periodo di quarantena speravamo tutti che sarebbe stato più breve lo speravamo magari in una quindicina di giorni ma oggi dopo tante settimane ci troviamo ancora a lottare pur non vedendo un radicale miglioramento della situazione pensate che anche complessivamente nella provincia di Modena oggi si resistono ancora 39 casi nuovi di contagi e quindi questo momento sembra ancora più complicato e più più difficile più duro da gestire probabilmente i risultati non sono pari alle nostre aspettative che avevamo all'inizio ma è proprio in questo momento che magari sembra ci sembra insomma che l'effetto del nostro impegno non sia pari alla fatica che mettiamo nel metterlo in pratica che non bisogna mollare l'avevo detto in una precedente diretta che sembra un po' una maratona una scalata perché la la distanza da percorrere lunga e noi dobbiamo cercare di arrivarci passo passo cercando proprio di mantenere un cammino rigoroso verso appunto la meta ma il bicchiere che a me piace vedere mezzo pieno più che mezzo vuoto è davanti a noi noi dobbiamo guardare gli aspetti positivi non dobbiamo vivere nella paura e nel sospetto dobbiamo vedere che sono stati fatti importanti passi avanti che ormai sono sempre meno i ricoveri ospedalieri soprattutto sono meno i ricoveri nelle terapie intensiva che riescono a reggere grazie anche all'instancabile lavoro di tutti i medici infermieri del personale sanitario riescono a leggere appunto a reggere l'impatto dell'epidemia quindi cerchiamo di avere fiducia e cerchiamo di continuare a rispettare quelle norme che possono portare effettivamente a fermare il più possibile ad evitare nuovi contagi anche sul nostro territorio vi ringrazio per l'attenzione anche di questa mia riflessione mando un grande un caro saluto a voi a tutti i vostri cari e naturalmente vi aspetto per la prossima diretta domani sera sempre alle 19 sulla mia pagina facebook grazie a tutti e mi raccomando teniamo botta ciao buona serata